ragazzi eccoci qua guardate un coccodrillo e lì fermo immobile in modo da poter catturare la propria preda con l'effetto sorpresa guardatelo rimane in una zona dove c'è un po d'acqua questo è il suo habitat cinfano ok ragazzi ci vediamo alla prossima non posso parlare troppo se no rischio di svegliarlo ok ciao